Buongiorno a tutti, come potete vedere le campane stanno ora fermandosi, siamo a Tortore Tolito alla chiesa di Santa Maria Assunta e qui abbiamo un fantastico concerto in Si bemolle 2, fuso dalla Capanni. Qui abbiamo la piccola, la seconda che è un Re 3 e qui la grande, la famosissima Raffaella che ora sta frenando. Da notare quanto scrocchia il motore della seconda. E niente, oggi riprenderemo, o meglio abbiamo ripreso, tre suonate. La prima alle 6 dalla durata di 6 minuti e le altre due rispettivamente alle 6 e 15 e alle 6 e 30 di un minuto. Buon ascolto! Grazie a tutti! 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 Eccole! Eccole! Grazie a tutti! 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 !